Sì, tra l'altro credo di avere intuito cosa avesse intenzione di dire il consigliere Pelonzi, che sostanzialmente è anche il mio stesso obiettivo. Se ho ben capito, l'ordine del giorno chiede nel secondo punto quello di pubblicare un avviso per l'assegnazione dell'area, il che credo andrebbe un po' in contrasto con quello che è l'iter che è stato avviato dal municipio e l'accordo che è stato proposto con la Regione. Ed è il tema che va oltre il contenuto della delibera, ma è l'argomento sul quale ci siamo soffermati durante le commissioni. Quindi da questo punto di vista io esprimo il voto di astenzione per il gruppo del Movimento 5 Stelle perché è un tema successivo a quello dell'argomento della delibera di oggi che potremo trattare in commissione.